Trani come centro dell'avvocatura nazionale nel nome di Giustina Rocca e questo l'obiettivo lanciato da Ordine degli Avvocati di Trani e Lions Club Ordinamenta Maris nel corso della conferenza di presentazione della prima edizione del premio dedicato alla donna avvocato numero 1 della storia che in Trani ha le sue radici. Nella biblioteca storica degli Avvocati dell'Ordine di Trani il lancio di un'iniziativa che mette in palio 6.000 euro e strumenti professionali per gli elaborati presentati da giovani avvocate entro il 31 marzo in materia di parità di genere e violenza sulle donne. Sarà poi la commissione scientifica a scegliere i primi tre vincitori. Il progetto Giustina Rocca comprende inoltre un secondo riconoscimento speciale alla carriera che sarà assegnato alla professoressa Silvana Sciarra, presidente emerito della Corte Costituzionale, insigne giurista e tranese di nascita. Il concorso patrocinato da Regione Puglia, Consiglio Nazionale Forense, Università degli Studi di Bari e Lions International District è pronto a prendere il volo per concentrarsi il 24 e 25 maggio prossimo con un evento che attirerà le attenzioni di tutta l'avvocatura nazionale. La storia giuridica di Trani è nota a tutti, quantomeno nel territorio vorremmo che appunto fosse conosciuta anche a livello nazionale. Dopo le iniziative realizzate da altre realtà artistiche e culturali locali ora anche il mondo giuridico è pronto a risaltare la figura di Giustina Rocca e diffonderla oltre confine con ambiziosi progetti.